Il processo P4 a Napoli davanti alla prima sezione del Tribunale comincia con un'accusa in meno a carico dell'imputato Alfonso Papa. La Cassazione ha annullato l'associazione per delinquere contestata al parlamentare del PDL dai pubblici misteri ed accolta dal Tribunale di Riesame. Papa ha gli arresti domiciliari dal 31 ottobre e è arrivato al Palazzo di Giustizia senza scorta in taxi accompagnato dai suoi avvocati, soddisfatti per l'esito della Corte Suprema che di fatto ha annullato sei capi di imputazione su undici. Secondo la Cassazione non sussistono, oltre all'associazione a delinquere, la ricettazione e alcuni episodi di concussione, ma restano comunque in piedi tutte le altre accuse mosse dai PM, Curcio e Vuducoc, concussione relativa ad alcuni casi, corruzione, rivelazione di segreto istruttorio e favoreggiamento. In aula c'era anche la moglie dell'onorevole Papa, Tiziana Rodà. L'udienza è iniziata con alcune questioni preliminari di costituzionalità e di competenza territoriale e funzionale poste dalla difesa, rappresentata dagli avvocati, da Lise e di Casola, hanno replicato i PM, Curcio e Vuducoc. L'altro imputato che avrebbe fatto parte della cosiddetta P4, il faccenniere Luigi Bisignani, ha deciso di patteggiare ammettendo i reati contestati. Il 31 ottobre gli sono stati revocati gli arresti domiciliari e per lui la prima odienza è prevista il 24 novembre. Per Papa la prossima odienza è invece fissata per il 22 novembre. Bisignani ha scelto una linea difensiva completamente diversa dalla nostra. ha ritenuto di decidere per un rito alternativo che è il patteggiamento, con uno sconto di pena, probabilmente anche abbastanza congro. E' venuta a meno l'associazione che era il collante di tutte queste ipotesi accusatorie, abbiamo detto a questo punto, visto che non c'è l'associazione, anche perché in questo momento comunque non era contestata l'associazione, perché il giudizio immediato si realizza per i reati per cui è in stato di detenzione. Siccome l'onorevole Papa, come lo stesso Bisignani, essendo stata l'associazione riconosciuta dal tribunale dell'esame, non era esecutiva. E quindi in questo caso abbiamo chiesto di smembrarlo e di farci le nostre vari potesiderate dal giudice naturale che dipende territorialmente.